Di là dei giocatori disponibili o no, però secondo me abbiamo tanti giocatori con caratteristiche tutti diversi tra di loro e ancora secondo me non tiriamo fuori proprio il meglio in questo reparto, però siamo sulla buona strada. In questo momento qua noi abbiamo avuto delle difficoltà in due partite, abbiamo perso quattro punti in due partite, ma i motivi non è che si può dire perché eravamo a centrocampo corti, perché avevamo tre infortuni proprio in quel reparto lì, però è chiaro che da parte nostra noi dobbiamo pensare a crescere come squadra, l'obiettivo nostro è quello, a migliorare un attimino in tutti gli aspetti, bisogna aspettare il mercato di gennaio, bisogna cercare di essere competitivi fino alla fine e poi vediamo le altre che fanno, però da parte nostra la preoccupazione è quella di andare a Pagani in questo momento qua e dimostrare ancora di più che siamo diventati squadra e che abbiamo la forza di poter andare a lottare per il risultato pieno a Pagani.